Ciao, sono Francesco. Ci prepariamo adesso insieme per i canti del 31 ottobre. Proviamo Tu sei prezioso ai miei occhi. Fa così. Ripetiamo insieme questa frase. Tu sei prezioso ai miei occhi. Tu sei degno di stima. Adesso cantiamo il ritornello. Io ti amo, io ti amo, io ti amo. Io ti amo, io ti amo. Io ti amo, io ti amo, io ti amo. Io ti amo.